Partita Sei in finale 29 gli atleti in partenza passano il turno le prime 15 e cioè quelle che andranno a fare la volata dell'ultimo giro Prima campana meno 28 e poi giri di spagna eliminazione giri vai Campana salato eliminazioni sempre singole Numero 87 a Monita Ecco la campana e allora come sempre andiamo a vedere il gruppo con la coda dove si fa più lavoro per evitare l'eliminazione Eccoci alla prima eliminazione 104 E' l'atleta che deve rialzarsi Costa Mentre in testa abbiamo ora l'atleta dello skating club di Rovivo Attenzione c'è un tocco Restano in piedi Campana con Tognini Testa al gruppo E il gruppo in questo momento è aperto e chiuso da due atlete della Luna Sport Academy Numero 14 a Monita E' l'azione 153 Fermarsi Fermarsi Si rialza Glippa E' gara Con campana ora meno 24 Il gruppo aveva preso i 6 metri Di larghezza del rettilineo d'arrivo della pista Si era proprio aperto ad occupare tutta la pista Eliminazione in corso 245 Si rialza Si rialza la stretta della Luna Sport Academy Nentre ora Numero 14 Seconda Ammolizione Entra in diffida Fossemo in testa Al gruppo Gruppo che al passaggio Si assottiglierà ancora di un'unità Quindi andiamo a animare il gruppo Numero 44 E' l'atleta del centro polisportivo Giovanni di Aquilano Che deve rialzarsi Alla campana dei meno 20 A ogni passaggio Il gruppo Si assottiglia E intanto ora E' in testa Con il numero 55 Gualtieri Della diretta del distinto La fase armese In coda A vedere Eliminazione 259 259 L'atleta del New Roller Della forcia Che si rialza Vivian Mentre Gualtieri Ormai Da qualche giro In testa al gruppo Ora l'atleta dell'Hermans in line 227 Dovreva Ammonita Eliminazione 168 L'atleta del gruppo Cosmo di Nuane Che si rialza De Sogus 23 ore in testa Giallo Bianco Blu Occhi Cantù Con il numero 65 Longaretti Viene una sonda avanzata Dalla atleta L'atleta Gruppo sportivo di Scasemico Venezia Gruppo ancora compatto Natura Direi Non impossibile Ma la coda Andiamo a vedere L'eliminazione 272 272 272 E' l'atleta che deve rialzarsi Torassa Alte cercato Campana Campana Con Gualtieri ancora in testa al gruppo Seguita dall'atleta dei patinatori piombinesi Scoppo Scoppo Eliminazione 293 Si rialza l'atleta di Scasemico Con Gualtieri Con Gualtieri Ora per Gualtieri Sopravanzata Dalla atleta del Red Black Robert Green Campana Campana Di meno 12 Al passaggio Eliminazione Di meno 11 E' l'atleta di Scasemico E' l'atleta di Scasemico E' l'atleta di Scasemico Un dirigente della Fortitudo Fabriano al tavolo della giuria Un dirigente della Fortitudo Fabriano al tavolo della giuria C'è l'alluminazione di meno 9 Numero 55 per scorrettezza Gualtieri La preta della diretta artistica Barerrese 221 Camuto Amorita Amorita Intanto si assottiglia sempre di più 227 Togreva Entra in diffida Al passaggio Eliminazione 07 221 L'atleta dell'HP Padova Mantomani siamo alla campana di meno 6 ne resteranno 15 e saranno quelle che passeranno in finale intanto Togreva in testa al gruppo 215 l'atleta dell'Hermans in line che si è prontamente rialzata mentre in testa si porta a Montemurro patinatore spinea è rassata coperta finora dentro la pancia del gruppo con la Pagliasone Montemurro in testa con la reglazione numero 3 numero 73 l'atleta che devi rialzarsi l'atleta del Dept-Roller TV campana con Camuto in testa al gruppo seguita da Scotto Logaritti e la scusate la tleta della eliminazione 217 con Saltino eliminata con Saltino la 216 siamo alla volata all'arrivo forse no partite ora vediamo chi si porta in testa al gruppo con il numero 3 ecco Ioni stitumi riattaccati male 249 ammunizione salta l'eliminazione ragazze perché si è ritirata un atleta quindi salta l'eliminazione non eliminiscio non eliminazione ci metti in testa al gruppo ora sono avanzata da altre atlete al passaggio campana di meno di Mari Arduini in testa al gruppo in questo momento Arduini seguita da Raga ora Nasti ma andiamo a vedere la coda 299 299 299 ancora Nasti in testa al gruppo ora passa la atleta del più gol e la porcina Mareti 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 delle prime proiezioni sai anche Degrado fuori loro fuori Mareti 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 75 ammonita eliminata scusate eliminata eliminata la non devo uscire 41 ammonita 75 deve fermarsi ok esci Lara fuori che stai a fa che c'è l'eliminazione l'eliminazione guarda 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 41 gambriani 267 ammonita 249 sempre in destina tanto campana di meno 20 con Nasti vaga nelle prime posizioni l'eliminazione che sta a fare apre con loro faccia non mi lascia passare l'eliminazione 317 all'esterno all'esterno più sostenuta quella dettata da Marchiotto Dominoni ora si è portata in testa con Degrado Raga Natti Falcioni nelle prime posizioni numero 300 Fermarsi grazie all'atleta del gruppo Cosmo di Noale e ancora Dominoni in testa al gruppo seguita da Degrado Natti Falcioni ma all'esterno porta su un treno o tenta di farlo Tretta del Pescaro e Caneano Tretta della città di Triolo Gargallo che si porta in testa Don Moritti andiamo all'eliminazione 291 291 238 a Monica campana Sprega in testa al gruppo stagioni 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 l'eliminazione numero 13 69 69 biazza l'atletta del rolling Bosica e intanto Moretti in testa al gruppo alla campana di 2012 Moretti Falcioni Raga Degrado Natti Natti Dominoni 137 Ammonita Eliminazione 108 su biazza l'atleta il gruppo si assortiglia sempre di più ad ogni passaggio inesolabilmente poi ne saranno 15 che vanno alla finale tanto hanno preso la campana di meno 10 con Camerano in testa al gruppo all'esterno riscane l'atleta di ripartire con il salvere dei defesi eliminazione 261 261 261 per Massi Meroli con Botticelli che da un paio di cini si è portato in testa seguita da Moretti Pagioni Gareano Porta su un treno con Raga e Degrado 277 l'atleta che viene eliminata in questo giro ora è aumentata la campana si stappano nei vagoni dal treno del gruppo Campana a meno 6 con l'atleta della Luna Sport in testa con l'atleta di Corraga Degrado Falcioni abbiamo delle atlete staccate diciamo all'eliminazione di meno 5 nota quasi a voglia di fare ancora fatica 7 6 5 quindi ancora un giro di fatica per l'atleta dello di di rubico dai loro sali adesso sali adesso andiamo dai Lara dai Lara dai Lara il testa al gruppo ferma dai numero 208 a Monita e la tutta l'esco c'è l'ultima eliminazione 225 eliminata dai Lara l'ultima in azione dai Lara fuori fuori eccoci la rampana di meno 2 con botticelli raga Degrado Falcioni nelle prime colizioni dai Lara dai Lara dai Lara dai Lara dai Lara dai Lara in azione 208 e lei la presa che deve rialzarsi si tratta di Pavel intanto raga e Falcioni fanno le prove di sprint finale della della